Cura naturale per Bunyons, stanco di foe Bunyons? Scopri la soluzione naturale a questo grave problema ai piedi, ora puoi correggere completamente i tuoi piedi colpiti da borsiti con metodi naturali molto potenti, ottieni le bocche ti aiuterà a sistemare i piedi in pochi giorni, conoscere i modi migliori per alleviare il dolore dei borsiti, scoprile dalla guida perché dovresti evitare un intervento chirurgico per i neonati, ulteriori informazioni sui pro e contro della chirurgia per la rimozione di borsiti, scopri come prevenire la ricomparsa dei borsiti, conoscere i diversi tipi di alternative di chirurgia borsale, fai attenzione ai fattori di rischio per lo sviluppo dell'alluce, sei a rischio di sviluppare borsiti, scopri i migliori metodi di trattamento dell'alluce, scopri dalla guida se Bunyons sono ereditari, questa guida ti aiuterà a scegliere le migliori scarpe per il tipo di borselli che hai per movimenti comodi, scopri come evitare i borsiti nei ballerini, sapere quali sono le cose che puoi fare quando il tuo alluce ti fa male, conoscere i tre principali aiuti per alluce da provare, questa guida ti insegnerà come trattare i borsiti in modo naturale. Sbarazzati dei borsoni sporgenti con l'aiuto di rimedi naturali e domestici molto potenti, prova i rimedi naturali suggeriti nelle bocche e ottieni un paio di bellissimi piedi senza dover eseguire un intervento chirurgico costoso e complicato. Per una frazione di pochi centesimi, i risultati saranno strabilianti, clicca il borsiti.curenof.info link indicato di seguito nella descrizione per ottenere subito la guida, di addio ai brutti e scomodi bunions per sempre. Borsiti.curenof.info